Gemma Galgani a Verissimo, Tina Cipollari lasci stare il mio Giorgio? Gemma Galgani di Uomini e Donne si rivela a Verissimo, e racconta, vivo le emozioni in tempo reale, quando si presentano e poi passa subito al dunque. Giorgio in un'intervista ha detto che io ero importante per lui e nessun'altra lo è stata come me. Questa frase mi ha ridatto speranza. Quello di Giorgio è stato un grande amore. La Galgani, riporta l'Ego, quindi poi passa a parlare della rivale di Uomini e Donne, Tina Cipollari, e confessa a Silvia Toffanile, penso che anche Giorgio provi qualcosa per me, ma è condizionato da Tina Cipollari. E poi l'appello, non smetterò di sperare, ogni giorno, in una sorpresa anche se non è ancora arrivata. Infine Gemma chiede chiaramente alla Cipollari di farsi gli affari suoi e smettere di condizionare Giorgio Manetti, della quale lei è ancora innamorata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.